Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 280 In fatto di abbigliamento non posso dire di essere molto creativo. Tendo ad indossare sempre gli stessi vestiti o tipi di vestiti. Prima che io e Pippa ci sposassimo, la situazione era addirittura peggiore. Ricordo che subito dopo il matrimonio fui costretto a sbarazzarmi dei miei pantaloni deformati, dei maglioni bucati, dei lunghi gilet e delle cravate ereditate da mio zio. Odio sbarazzarmi delle cose, soprattutto dei vestiti a cui sono affezionato. Sono come dei cari e vecchi amici. Ma, ahimè, era arrivato il tempo di cambiare il guardaroba e di rivestirmi di abiti nuovi. Gli abiti che usiamo per coprirci non sono gli unici abiti. Anche i nostri cuori e le nostre menti hanno un abito interiore. Quando entriamo in relazione con Dio attraverso Gesù, gli abiti vecchi devono lasciare il posto ad abiti nuovi, sia per il cuore, sia per la mente. Commento ai sapienziali Controllare il nostro cuore e la nostra mente riguardo alle persone Ti è mai capitato di ricevere opposizione da una persona e in seguito di venire a sapere di problemi o difficoltà incontrate da quella stessa persona? Questo brano ci mette in guardia dal pensare che, in situazioni come queste, le persone abbiano ciò che si meritano e dal rallegrarsi dei loro problemi. Non ti rallegrare per la caduta del tuo nemico E non gioisca il tuo cuore quando egli soccombe Perché il Signore non veda e se ne dispiaccia E allontani da Lui la sua collera È così facile provare piacere ed esultare per le sventure di coloro che in passato sono stati ostili nei nostri confronti. Si è tentati di esserne felici e di godersi il momento Ma questa reazione è sbagliata Per questo dovremmo sempre sorvegliare il nostro cuore e resistere a questo tipo di pensieri Joyce Meyer ha detto Ci vuole un bel po' di lavoro del cuore per non essere almeno un po' contenti di vedere quella persona avere ciò che si merita Dovremmo sempre ricordare che le persone che fanno del male stanno facendo del male prima di tutto a se stesse Chi ci fa del male di solito soffre dentro di sé e il suo dolore può essere così forte da non rendersi nemmeno conto di farci del male Signore Perdonaci per le volte in cui siamo rallegrati per i fallimenti degli altri Aiutaci a resistere alla tentazione di farlo Aiutaci a controllare il nostro cuore e la nostra mente con l'aiuto dello Spirito Santo Commento al Nuovo Testamento Rivestire il cuore e la mente di amore In quanto cristiani siamo in Cristo Siamo uniti a Lui nella Sua morte e risurrezione Paolo dice Voi infatti siete morti e siete risorti con Cristo La vostra vita è nascosta con Cristo in Dio In futuro, quando Cristo, nostra vita, sarà manifestato allora anche noi appariremo con Lui nella gloria A causa di tutto ciò che Gesù ha fatto e ha reso possibile per noi siamo chiamati a rivestire il nostro cuore e la nostra mente 1. Cambiare il nostro pensiero Le buone azioni iniziano da buoni pensieri Grazie a Gesù ora possiamo vivere una vita di risurrezione Paolo scrive Rivolgete il pensiero alle cose di lassù non a quelle della terra Fare questo non è facile Ogni giorno veniamo circondati da cose della terra e da tentazioni Per questo siamo chiamati a rispondere in modo radicale Paolo scrive Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra Impurità Immoralità Passioni Desideri cattivi E quella cupidigia che è idolatria In altre parole Eliminate tutto ciò che è legato a quella via di morte La promiscuità sessuale L'impurità La lussuria Il fare quello che ti pare ogni volta che ti pare L'afferrare tutto ciò che ti attira Questo è ciò che facevamo prima di essere cristiani Ora invece siamo chiamati a spogliarci dei vecchi abiti A gettare via tutte queste cose Ira Animosità Cattiveria Insulti e discorsi osceni Che escono dalla nostra bocca Paolo continua Non dite menzogne gli uni agli altri Vi siete svestiti dell'uomo vecchio con le sue azioni E avete rivestito il nuovo Che si rinnova per una piena conoscenza Ad immagine di colui che lo ha creato Paolo ci parla di abiti nuovi Siamo un popolo eletto da Dio E quindi siamo chiamati a vivere come tali Questo significa un cambiamento radicale della nostra posizione nel mondo Non siamo passivi Ma attivi Invece delle cose cattive Siamo chiamati a rivestirci di sentimenti di tenerezza Di bontà Di umiltà Di mansuetudine Di magnanimità 2. Cambiare la nostra reazione agli altri Gesù vive in ogni cristiano Indipendentemente dalla sua provenienza In Cristo non c'è alcuna barriera di etnia Greco o giudeo Religiosa Circoncisione o incirconcisione Di nazione Barbaro Scita O di classe Schiavo Libero Ma Cristo è tutto E in tutti Paolo aggiunge Sopportandovi A vicenda Spesso Quando qualcuno ci delude Tendiamo a chiudere la nostra relazione con quella persona Ma Paolo ci invita a fare diversamente Sopportandovi a vicenda E perdonandovi gli uni gli altri Se qualcuno avesse di che lamentarsi ne riguardi gli un altro Come il Signore vi ha perdonato Così fate anche voi Questo tipo di perdono è una virtù esclusivamente cristiana Altri possono perdonare Ma solo i cristiani hanno una base così solida per il perdono C.S. Lewis ha detto Il perdono va oltre la giustizia umana E perdonare cose che non possono essere facilmente perdonate C'è una parola che riassume molto bene il vestito nuovo che dobbiamo indossare Amore Paolo scrive Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità che le unisce in modo perfetto L'amore non è solo un'emozione È un'azione È qualcosa che si indossa Come si indossano i vestiti fisici Così si deve indossare l'amore Questa è la bellezza della comunità cristiana Cristo porta un cambiamento radicale nelle nostre relazioni Il modo in cui i cristiani si relazionano È molto diverso da come le persone del mondo si relazionano Un modo che dovrebbe essere sempre molto attraente Ma com'è possibile realizzare tutto questo? Mettendo il cuore e la mente al posto giusto Paolo dice La pace di Cristo regni nei vostri cuori Perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo Nel nostro cuore la pace di Dio agisce come un arbitro Dicendoci cose dentro e cose fuori Una delle domande che dovremmo sempre tenere presente in ogni decisione è Riguardo a ciò che sto per fare Sento la pace di Dio? 3. Cambiare il nostro atteggiamento verso Gesù Paolo ci invita a farci guidare costantemente dalla parola di Cristo La parola di Cristo abiti tra di voi nella sua ricchezza In altre parole Lasciate che la sua parola abbia il controllo della casa Lasciatele ampio spazio nella vostra vita Istruitevi e dirigetevi a vicenda usando il buonsenso E cantate, cantate il vostro cuore a Dio Le nostre comunità dovrebbero essere centrate Con un buon atteggiamento di cuore e di mente Qualunque cosa facciate Fatela di buon animo come per il Signore E non per gli uomini Sapendo che dal Signore riceverete come ricompensa l'eredità Signore, aiutami oggi a vivere una vita di compassione Gentilezza, umiltà, mitezza e pazienza Aiutami a perdonare come Tu hai perdonato me Che la Tua pace regni nel mio cuore Commento all'Antico Testamento Cambiare la direzione del cuore e della mente verso Dio Il libro di Geremia è un appello al pentimento Geremia inizia dal suo cuore Allora il Signore mi rispose Se ritornerai, io ti farò ritornare E starai alla mia presenza Se saprai distinguere ciò che è prezioso Da ciò che è vile Sarai come la mia bocca Pentirsi significa cambiare cuore e mente E ritornare a Dio Geremia è portavoce di Dio Rivolge il suo cuore e la sua mente All'ascolto della parola del Signore Un atteggiamento, questo In netto contrasto con i falsi profeti del tempo Di loro il Signore dice I profeti hanno proferito menzogne nel mio nome Io non li ho inviati Non ho dato loro ordini Ne ho parlato loro Vi annunciano visioni false Predizioni che sono invenzioni e fantasie della loro mente Diversamente da loro Il cuore e la mente di Geremia Sono orientati all'ascolto del Signore Parola rivolta dal Signore a Geremia Il Signore mi disse Sa bene quanto sia straordinario Ascoltare le parole del Signore Quando le tue parole mi vennero incontro Le divorai con avidità La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore In definitiva Questa è l'unica cosa che può soddisfare I desideri più profondi del nostro cuore e della nostra mente Per questo dovremmo impegnarci ogni giorno A leggere la parola di Dio E a meditarla nel nostro cuore e nella nostra mente E, una volta ascoltata Impegnarsi a trasmettere il messaggio immutato Che cambia la vita Che le vostre parole li cambino Non cambiate le vostre parole per adattarle a loro Dio sia nella mia testa e nella mia comprensione Dio sia nei miei occhi e nel mio sguardo Dio sia nella mia bocca e nel mio parlare Dio sia nel mio cuore e nel mio pensiero Dio sia alla mia fine e alla mia partenza